Buongiorno a tutti, proseguono febbrimente i lavori per l'organizzazione di International Anthro Meeting 2018 che si terrà a Roma 28 e 29 settembre all'Euro, al Salone delle Fontane. Ad oggi abbiamo superato abbondantemente le 200 preiscrizioni che sono in linea con i risultati ottenuti lo scorso anno, anche se ben sappiamo che sarà difficile deguagliare i numeri record della passata edizione, ma siamo estremamente fiduciosi e continuiamo ad ottenere degli ottimi risultati. Per questo volevo ringraziare i territoriali, i presidenti territoriali che con grande impegno hanno raccolto il nostro invito di invitare più gente possibile, più partecipanti possibili a questo nostro congresso. Vi ricordo il programma culturale, assolutamente importante, vi ricordo i tavoli tecnici, le aziende che espongono i loro prodotti, vi ricordo la parte conviviale, la cena del venerdì sera e vi ricordo il primo Memorial Dino Malfi con la parte sindacale, con la tavola rotonda a difesa del nostro spazio professionale. Quindi, che dire, l'Ame 2018 sarà sicuramente un successo, sarà importante partecipare per tutti. Vi aspetto a Roma, all'Euro, al Salone delle Fontane, 28 e 29 settembre. Buon lavoro a tutti.